Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria dei fondali al porticciolo di Donna Lucata Scigli, a renderlo noto il deputato regionale Horacio Ragusa. In questo modo sarà possibile avviare gli interventi per l'importo complessivo di 300.000 euro, che messi a disposizione dallo stesso assessorato garantiranno un sospiro di sollievo alla marineria locale, ai diportisti che, sempre più numerosi, avranno così l'opportunità di attraccare al porticciolo di Donna Lucata. Si è rivelata proficua la visita nell'ottobre scorso dell'assessore regionale Marco Falcone. Ha voluto verificare in prima persona quale è il tenore degli interventi che si sarebbero dovuti realizzare. Il porticciolo sarà rappresentato dalle opere di messa in sicurezza grazie ai fondi della protezione civile, circa 3,8 milioni di euro. Fondi che daranno un ottimo contributo ad un altro progetto, quello di massa in sicurezza, appunto, che procede in modo parallelo e che si speri termini nei tempi previsti. Il porticciolo di Donna Lucata è individuato come un punto d'attracco per i mezzi di soccorso nel caso di eventi calamitosi, come dire che i soccorsi arriveranno via mare. Grazie. Grazie. Grazie.